Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiegherò come collegare delle cuffie bluetooth oppure qualsiasi altro dispositivo bluetooth al file stick tv di amazon quindi in questo caso passerò direttamente al telefono e ti spiegherò come collegare delle cuffie bluetooth ovviamente siamo qui quindi quello che dobbiamo fare è prendere così il nostro telecomando andare sulla rotellina quella rotellina che vedete in fondo questa rotellina scendiamo giù fino a trovare controller e dispositivi bluetooth poi andiamo su altri dispositivi bluetooth aggiungo i dispositivi bluetooth e ora non ci resta che aspettare io adesso prendo delle cuffie quindi auricolare bluetooth le attivo le faccio lampeggiare eccolo che lampeggiano e come puoi vedere è uscito l'auricolare sul dispositivo quindi su file stick e non mi resta che cliccarci sopra con il tasto centrale e collegare così le cuffie e collegare così le cuffie dispositivo connesso come puoi vedere la lucina dell'auricolare è fissa e non lampeggia più perché è connessa se questo video ti è stato utilissimo su come collegare delle cuffie bluetooth oppure qualsiasi altro dispositivo bluetooth al file stick tv di amazon iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao